Quest'anno la novità importante per tutta la città di Osimo è l'organizzazione del primo Vivo Festival Città di Osimo. Che significa Vivo Festival? Significa che il centro storico potrà contenere fino a 3.000 persone per due eventi di eccezionalità grande. Ospiteremo a Osimo venerdì 26 agosto il concerto di Achille Lauro e ospiteremo il 10 settembre il concerto di Gianna Nannini. Avremo un prezzo speciale per gli osimani, 30 euro per Achille Lauro, 35 euro per Gianna Nannini. E apriremo una prima finestra per l'acquisto di questi biglietti verso il teatro La Nuova Fenice di Osimo nei giorni che vanno da mercoledì 15 giugno fino a sabato 18 giugno dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Da lunedì 20 giugno fino a sabato 25 giugno sempre nello stesso orario. Non solo grandi personaggi della nostra Italia che canteranno nella principale piazza della città che potrà contenere fino a 3.000 biglietti, ma una serie di concerti che vi racconterà meglio l'assessore ascolteremo sia nei venerdì di luglio sia nel mese di agosto con le nostre band locali. Per i giovani ritorna la Vertical Night. Sabato 16 luglio torna a grande richiesta la Vertical Night. La musica dalle principali finestre, balconi della nostra città. Cominceremo il pomeriggio tardo verso le 19.00-19.30 per arrivare fino a tarda serata. Credo che sia un programma molto ricco di eventi che raggrupperà l'osimanità e anche la musica di caratura internazionale come con grandi artisti che vi dicevo prima e poi abbineremo in questi periodi di luglio-agosto il revival di un grande appuntamento sportivo. Ci sarà la prima edizione del Memorial Lanari Bellezza, ovvero il compianto Roberto Bellezza aveva allora fatto nascere una kermessa sportiva di caratura nazionale e internazionale in onore del proprio nipote Mauro Lanari. Oggi che Roberto non c'è più, questa riedizione la dedichiamo al nipote Mauro ed anche al compianto Roberto Bellezza e Gallieri. Saranno con noi l'Inter, la Roma, la Fiorentina, il Sassuolo, Primavera, squadre di Serie A e poi due squadre marchigiane, l'Ancona e la Recanatese. Ci saranno nostri ospiti dall'8 al 13 agosto ma dettaglieremo meglio il programma con una conferenza stampa dedicata a questa kermessa sportiva ma questo ci stava nel programma dell'estate osimana perché vogliamo ritornare alla grande a far divertire i nostri concittadini osimani. L'assessore poi vi parlerà della mai appuntamento fisso in una splendida location che è il chiostro di San Giuseppe da Copertino ma vi racconterà lui quelli che saranno gli appuntamenti al chiostro di San Giuseppe da Copertino. Io credo che da luglio a settembre era da tempo che Osimo non tornava a risplendere di eventi concertati con la consulta delle attività culturali, concertati con le attività commerciali del centro storico perché legheremo anche tutto questo con un'attività importante che è stata quella dei Deore gratuiti nel periodo Covid che saranno gratuiti anche per il 2022 e che prevedrà verso settembre e ottobre anche l'approvazione del regolamento Deore perché vorremmo che questa splendida piazza di Osimo piena oggi di Deore d'estate sia piena di Deore anche d'inverno perché sulla cultura abbiamo puntato moltissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi lascio la parola all'Avvocato Mauro Pellegrini, Assessore alla Cultura per meglio puntualizzare e descrivere in maniera analitica quelli che sono gli appuntamenti di luglio, agosto e settembre nella nostra città e soprattutto nel nostro amatissimo centro storico. Grazie Sindaco, ma allora io aprirei con un'altra novità di quest'estate che è una mostra sul cinema di animazione che il Comune organizza insieme all'Associazione Art & Samba di cui tra l'altro fa parte Enzo Storico e come sapete insomma è cittadino onorario di Osimo e si tratta di una mostra che inizierà dal 3 luglio e durerà fino all'11 settembre sarà allestita presso il foyer del teatro La Nuova Fenice con un orario d'apertura tutti i giorni dalle 11.30 alle 19.30 quindi sarà l'occasione per molti turisti non solo di vedere la mostra del cinema di animazione ma anche per vedere, rendere a tutti gli effetti il teatro La Nuova Fenice un bene culturale, un sito fruibile e visitabile. Ecco, questa mostra che è stata prodotta dall'Associazione Nazionale degli scenografi e dei costumisti italiani che è curata quindi da Alida Cappellini, Giovanni Liccheri, Lucia Nigri e Carla Giannini appunto è dedicata a questi due maestri del cinema di animazione che sono Lele Luzzati e Giulio Giannini che appunto sono maestri conosciuti del cinema di animazione e per due volte insomma hanno avuto la nomination all'Oscar si tratta di una mostra che è stata già in luoghi prestigiosi per esempio presso il Museo del Cinema della Mole Antonegliana di Torino presso la Cineteca di Bologna, il Palazzo La Borsa di Genova e poi ultimamente nelle Marche al Forte Malatesta di Ascoli Piceno quindi una mostra a ingresso libero e appunto e quindi ecco con questo orario d'apertura diciamo in interrotto dalle 11.30 alle 19.30 insomma ecco crediamo anche di dare una risposta ai tanti turisti e visitatori insomma che appunto ci auguriamo insomma siamo sicuri insomma visiteranno Osimo poi ecco passerei alla ormai è diventata diciamo la terza edizione degli incontri musicali degli incontri musicali al Chiostro e quindi la prima edizione è del 2020 che il Comune organizza in collaborazione con l'Ordine dei Frati Minori Conventuali che mette graziosamente a disposizione da anni questo splendido posto tra l'altro dall'acustica perfetta che è il Chiostro Francescano in collaborazione con l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo l'Orchestra Filarmonica Marchigiana l'Accademia Erard e la Coppa Pianisti e quindi con l'associazione Polo Music del maestro Gianluca Luisi e naturalmente con l'organizzazione della nostra azienda speciale Asso quindi il primo appuntamento sarà venerdì 24 giugno proprio con un concerto dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo ora non vi sto a leggere tutti i concerti vi dico il primo e l'ultimo ma è cadenzato tutti i venerdì di luglio e non solo luglio ma anche agosto e arriveranno fino a venerdì 2 settembre l'ultimo concerto quindi gli ultimi due concerti tra l'altro saranno il penultimo domenica 28 agosto e avremo ospite l'Orchestra Sinfonica della città di Sanremo con un concerto dedicato a Piazzolla e Galliano con la Fisa Armonica Bande Non Cesare Chiacchiaretta e poi chiuderemo il 2 settembre venerdì 2 settembre con il quartetto dei fiati dell'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini domani pubblicheremo ovviamente tutto il cartellone insomma e quindi potrete gli osimani insomma e non solo potranno segnare tutti gli appuntamenti degli incontri musicali al Chiostro quindi da venerdì 24 giugno fino a venerdì 2 settembre e ovviamente tutti i concerti di ottima qualità biglietto unico 2-5 euro ci saranno invece due concerti gratuiti uno è il venerdì 15 luglio col concerto della nostra banda Città di Osimo e l'altro sarà venerdì 29 luglio e tornerà a Osimo Andrea Parodi Andrea Parodi oltre ad essere musicista è colui che ha portato Osimo gli Orphan Brigade e quindi diciamo si esibirà questa volta non in veste di organizzatori ma in veste di musicista e parteciperà insomma oltre a Riccardo Maccabruni voce fisarmoni e tastiera anche Raffaele Kohler Raffaele Kohler per chi non lo concesse è la famosa tromba del Covid insomma che tra l'altro ha aperto a Ferrara il concerto di Gianna Nanina al Basker Festival però insomma dalla terrazza di Milano durante il Covid è diventata un'icona Raffaele Kohler quindi questo è il primo blocco di appuntamenti poi ovviamente tornano come tutti gli anni i venerdì di luglio i venerdì di luglio per quindi 1, 8, 15, 22 e 29 quindi come si svolgeranno da un lato c'è la concomitanza dei incontri musicali al Chiostro nel corso per tutti i 5 venerdì avremo un festival di artisti da strada anche in collaborazione col festival di artisti da strada di Pennabilli e poi oltre le normali visite guidate aperture straordinarie delle grotte mostre fotografiche negozi aperti la possibilità di shopping e food come dice nella locandina insomma quindi invitiamo gli osimani a venire a fare l'aperitivo a cenare e a approfittare già dei primi saldi nel primo venerdì di luglio poi ci sarà un'altra location a Piazza Nuova quindi ci svolgeranno degli eventi per dal primo venerdì di luglio fino a venerdì 5 agosto quindi i primi tre venerdì di luglio a Piazza Nuova ci sarà il contest Nuova Scena che abbiamo già reso pubblico una settimana fa ci sono state già molte iscrizioni questo è il festival scusate il contest che il comune organizza sotto la direzione artistica del Loop Club e quindi le prime tre serate saranno dedicate alle esibizioni alle esibizioni delle band locali poi sempre a Piazza Nuova il 22 luglio la Croce Rossa italiana organizza la Silent Red Night cioè come dire si tratta di una sorta di di Silent Disco quindi è un evento musicale in cui chi partecipa chi balla ascolta la musica individualmente attraverso delle cuffie e dei auricolari ma ovviamente questa iniziativa che è organizzata la Croce Rossa ha anche una finalità ovviamente pedagogica culturale e sociale perché vuole promuovere la prevenzione dell'abuso dell'abuso di alcol venerdì 29 sempre nel Giardini di Piazza Nuova nell'area del monumento si esibirà un'altra due band locali l'Acqua Chiara Big Band e il primo venerdì d'agosto quindi il 5 agosto si esibirà la band dei Sean Conero diciamo anche questa una nota band una nota band osimana poi ecco ovviamente ripartirà un altro format che ormai diciamo è stato ripreso a questa amministrazione al 2014 non si è mai più interrotto che è appunto Cinema sotto le stelle e quindi anche quest'anno grazie all'ospitalità insomma di Palazzo Campana presso l'arena la consueta arena di Palazzo Campana quindi il comune con l'Asso organizzerà questa rassegna cinematografica e quindi diciamo nell'arco di una che inizierà il 4 luglio la rassegna e nel giro di una settimana insomma saremo in grado di dare il programma dei film programma dei film di luglio-agosto sempre tornando a Piazza Nuova ci sono anche appuntamenti dedicati ai ragazzi questa volta a cura della biblioteca l'iniziativa si chiama un giardino di storie e quindi appunto si tratta nell'ambito del progetto insomma Nati per leggere delle letture condivise per le famiglie con i bambini da 0 a 6 anni e quindi queste avranno luogo a partire da giovedì 30 giugno il 7 il 14 e il 21 il 21 luglio poi sabato 25 e 26 giugno avremo a cura dell'autoclub Luigi Fagioli il quarta edizione del trofeo Donna Sprint al volante il 16 luglio lo accennava già il sindaco torna la Vertical Night che quest'anno sarà appunto su due punti teatro e diciamo dall'affaccio dalle finestre del teatro e dalle finestre del palazzo comunale sabato 30 luglio questa volta faremo l'edizione del Tau cioè la rassegna della regione Marche promossa all'AMAT dei teatri antichi uniti quindi per la prima volta faremo questo spettacolo che però non vi anticipo perché ci sarà breve la presentazione dell'AMAT del programma ma la faremo direttamente nell'area archeologica di Monte Torto e quindi sarà uno spettacolo diciamo ancora con la luce del sole alle 19 ma come al solito abbineremo il format che normalmente abbiniamo per incontri degli aperitivi a Monte Torto e quindi alle 6.4 ci sarà l'incontro la visita guidata alle 7 lo spettacolo e alle 8 la pericena e quindi finalmente diciamo anche quest'area archeologica sebbene non si presti benissimo per il pubblico spettacolo perché diciamo si trova un po' isolata però ci piaceva toccare il cuore dei teatri antichi uniti in quest'area archeologica e quindi promuovere ulteriormente questo sito archeologico che ripeto negli ultimi anni insomma anche grazie all'assessore al turismo è stato fatto un ottimo lavoro di promozione poi avremo anche un proseguono i mercatini dell'antiquariato l'ultimo appuntamento è domenica 26 giugno per quanto riguarda questo mese poi avremo tutti i martedì dal 19 luglio fino al 23 agosto tutti i martedì avremo il mercatino dell'antiquariato presso i giardini di Piazza Nuova poi arriviamo al 10 agosto il 10 agosto ci sarà la tradizionale tradizionale iniziativa insomma ormai di successo calici di stelle però diciamo il programma poi diciamo degli spettacoli lo dettaglieremo e lo dettaglieremo più avanti poi a seguire il 12 e 13 agosto sarà l'edizione di Rivivi Rivivi 700 poi abbiamo un tris 14 15 16 agosto quindi gli osimani in queste tre serate non devono andare necessariamente al mare o chissà dove perché abbiamo insomma tre concerti di primordine quindi il 14 agosto Piazza del Comune avremo il concerto della band osimana ma diciamo che non ha una valenza solo osimana ma ovviamente abbastanza conosciuta io e Gomma Gommas il 15 agosto ci sarà il tradizionale il concerto di Ferragosto oltre a Marco Santini e ci saranno anche ovviamente Rosa Sorice e interverrà anche Franco Morone Franco Morone sapete è un famoso musicista che diciamo riconosciuto a livello internazionale come uno dei maestri del fingerstyle che da alcuni anni vive a Osimo insomma e quindi questo appuntamento sarà arricchito anche dalla che ha avuto sempre diciamo un concerto di Ferragosto sempre un grandissimo successo di pubblico sarà arricchito anche da questo intervento quest'anno non essendoci il covid non essendoci tutte le premure delle cose insomma quindi questi tre concerti hanno tutti a ingresso libero e poi tornano il giorno successivo il 16 agosto il concerto della band Gli Amici inizio Pecos anche questa non ha bisogno di presentazione tutti gli osimani e non solo conoscono sempre il 16 agosto presso il Chiosse San Francesco si svolgerà inoltre il torneo di bridge il torneo di bridge e poi abbiamo detto l'ha già detto il sindaco il 26 agosto comincerà inizierà il primo grande concerto quello di Achille Lauro che tra l'altro non solo Achille Lauro ma un'orchestra di 20 elementi insomma e e poi il concerto di Gianna Nannini è stato già detto il 10 settembre quindi qui ci portiamo già diciamo verso le feste del patrono quindi mettiamo un pezzo già fino alle feste del patrono e vi posso anticipare insomma che poi domenica il giorno seguente domenica 11 settembre presso il teatro La Nuova Fenice avremo lo spettacolo al teatro con con Simona Marchini e si chiama la croce delizia signora mia e quindi la trilogia popolare di Giuseppe Verti raccontata questa grande personaggio insomma della televisione del teatro che è che è Simona Marchini questa iniziativa in collaborazione con l'associazione Erard il 15 settembre possiamo già anticipare che ci sarà in piazza del comune la sfilata di moda dell'istituto dell'istituto Leng il 16 settembre avremo tradizionalmente le cighe e le merenze e poi il 17 e 18 allora il 18 lo sappiamo già chi sarà la cantante o il cantante ma non lo possiamo ancora anticipare però diciamo che da agosto a settembre con Achille Lauro Gianna Nannini e il cantante del 18 settembre insomma vedrete insomma che ce n'è di molto per divertirsi e ascoltare buona musica in questo in questa estate osimana ecco poi l'ultima ecco cosa diciamo per i amanti della letteratura insomma vi invito sabato 7 luglio scusate giovedì 7 luglio presso il chiostro presso il chiostro di San Francesco ci sarà la presentazione del libro di poesia del professor Ligno Acoroni Osimano che tutti conoscete il libro La vita ecco questo è il titolo edito dalla casa editrice Pecord altro evento sportivo Mauro ce l'avevamo dimenticare sì eccolo qua Enrico il programma i ragazzi scusa una cosa solo i ragazzi del basket Osimano hanno riscoperto grazie al primo restyling fatto presso i campetti della Sacra Famiglia perché annunciamo già che andremo a sistemare anche il secondo campetto della Sacra Famiglia organizzano la seconda edizione di un torneo 3x3 come voi sapete il 3x3 nel basket è diventata disciplina olimpionica e quindi chi vince il torneo di Osimo ad esempio l'anno scorso è andato a fare le finali nel campionato nazionale hanno chiesto di abbinarlo al programma estivo credo che sia un bel abbinamento quello tra lo sport e la cultura è andato a fare